ciao sono luca lolletti e vi do il benvenuto su garage water basic il primo corso entry level gratuito online che approfondisce attraverso semplici video tutorial gli argomenti principali della ginnastica in acqua buon divertimento e 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 bene amici ci vediamo al prossimo video mi raccomando iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina così vi arriverà subito la notifica di tutti i nuovi video per informazioni dettagliate sul mondo garage water o sui prossimi corsi di formazione visitate il sito www.garagewater.com oppure la pagina ufficiale di facebook a presto